Potremmo definirli gli stati generali dell'Aglione della Valdichiana. Istituzioni, produttori e studiosi a confronto per fare il punto sulla concessione della denominazione di origine protetta. Il titolo dell'incontro è Aglione DOP, l'organizzazione del circolo culturale Gino Severini di Cortona, insieme con l'associazione produttori e trasformatori Aglione della Valdichiana, con il patrocinio del Comune. Una giornata molto importante per la valorizzazione di questo importante prodotto tipico del nostro territorio, della nostra Valdichiana, che comprende quattro province, che sono quella di Arezzo, Siena, una parte di Perugia fino ad arrivare al Ternano, il vecchio territorio dove scorreva il Clanis. Una riscoperta, quella dell'Aglione, di circa dieci anni fa, è stata riportata alla luce grazie all'impegno di numerosi imprenditori della nostra Valdichiana. La discussione è stata incentrata soprattutto sulla DOP, certificazione che ha avuto parere favorevole dalla Regione e che dopo ulteriori passaggi potrà diventare realtà. Abbiamo lavorato due anni, due anni e mezzo a questo riconoscimento, facendo migliaia di pagine di documentazione e la Regione Toscana, insieme alla Regione Umbria, perché la reale comprende anche alcuni comuni della Regione Umbra, hanno risposto positivamente anche in un tempo brevissimo. Avevano 90 giorni di tempo per rispondere, hanno risposto in 25. Quindi siamo contentissimi perché questo è il punto di arrivo da parte nostra a livello di conoscenze e documentazione, però è anche un punto di partenza per arrivare al riconoscimento ufficiale della DOP. Insieme all'olio che è già entrato nel circuito dei prodotti di eccellenza, la chianina e il vino, anche l'Aglione farà parte di questa sorta di prodotti di eccellenza della Valdichiana. Grazie. 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 Grazie.